Sì, grazie Presidente. Allora, innanzitutto il servizio di emissione delle carte di identità è un servizio che di fatto dipende dall'organizzazione del Ministero. Problemi nell'emissione di carte di identità da quando è diventata elettronica ci sono in tutta Italia, non è un problema specifico di Roma Capitale. Adesso l'impegno che c'è stato da parte dell'amministrazione è mettere ulteriori unità lavorative agli sportelli in modo tale da accelerare ulteriormente la gestione delle pratiche. Sono state messe 60 persone in più e pertanto tra l'altro per i certificati anagrafici, non per le carte di identità, dal primo di ottobre non sarà più necessario utilizzare il Tupassi ma le persone andranno direttamente allo sportello e lo faranno subito. Per cui l'impegno di questa amministrazione per cercare di evitare disagi al cittadino sono totali e si sta intervenendo per risolvere le problematiche. Per quanto riguarda le carte di identità oggettivamente questa procedura, dipendendo dal Ministero dell'Interno, non credo che allo stato attuale si possa fare di più di quello che non si sta già facendo. Pertanto a questa mozione il gruppo del Movimento 5 Stelle si asterrà. Grazie.